la scuola è alle spalle ma se penso al domani mi sembra di fare un salto nel vuoto cosa farò? dove andrò? troverò davvero la mia strada vedo i miei amici andare via e mi chiedo anch'io se questa sia l'unica scelta partire, lasciare tutto allontanarmi dalle mie radici ma alla fine ho capito che tutto ciò di cui ho bisogno è già qui perché l'università mediterranea è qui, nella mia terra restare significa scegliere un'università che mi dà opportunità concrete che mi sostiene nel mio percorso e che mi sfida a crescere la mediterranea non è solo un luogo dove studiare è il posto giusto per costruire il mio futuro senza rinunciare a chi sono e da dove vengo non c'è bisogno di andare lontano per trovare la mia strada il mio futuro può iniziare nella mia città nella terra che mi ha visto crescere dove i miei sogni possono trovare radici e volare alto scelgo di restare con orgoglio Università Mediterranea di Reggio Calabria Il mio futuro inizia qui